La foto copertina di Bitonto Molfetta è l'abbraccio delle lioncelle al fischio finale, come se avessero vinto la contesa. In realtà, punteggio alla mano non è andata così, ma quando la recuperi a 4 secondi dal termine, l'ordalia è ben giustificata. Il primo stoico derby in A2 del futsal femminile, dunque, finisce in parità e serve poco per capire che non è stato per deboli di cuore. 8 reti, 4 per parte, ammunizioni, 1 espulsione, emozioni da una parte e dall'altra, errori individuali, scontri duri e soprattutto tensione a fare da demiurgo. Nel primo tempo, in realtà, è la quantità che prevale sulla qualità, con le nero-verdi a tentare il mordi e fuggi e le bianco-rossi ed i misteri essi a metterla sulla fisicità e sulla grinta, con il centrale difensivo Castro baluardo invalicabile. Ottmani porta in vantaggio il Bitonto, ma a riprenderla è da ruolo. Poi più nulla, anche se il portiere bianco-rosso ha il suo da fare e si recrimina per le nitide occasioni fallite da Enrico e Fontela. Nei secondi 20 minuti, invece, le emozioni arrivano a grappoli. A segno vanno Gliuzzo, con la complicità di Tempesta, Moreira, Castro con punizione dal limite, e Mangafass. Sul 4-2 per il Molfetta sembra davvero tutto finito, ma le lioncelle, a testa bassa, non si danno per vinte e accorciano da prima con Fontela e quindi pareggiano con Moreira all'ultimo respiro, quando al fischio finale mancano 4 secondi. In mezzo due clamorosi palinterni della stessa Moreira e Ottmani. Un punto a testa, dunque, ma i punti il Bitonto avrebbe meritato davvero, davvero molto di più. Ci aspettavamo questo tipo di partita, ma non, diciamo, fino a questo punto. Una squadra che è venuta qui solo a difendersi, a rilanciare la palla con il portiere, che ha trovato le opportunità solo in questa maniera. Sinceramente ha spiazzato anche me, quindi poi si sa, un campo piccolo, se riesci a difenderti e poi tra l'altro non riusciamo nemmeno a concretizzare le occasioni avute oppure colpire dei pali, poi sì, alla fine rimango più che stanco, incredulo.